ciao creatura io sono Eka di Splendente e benvenuta, bentornata nel regno di Kodai A.S.M.A. questa sera leggiamo il secondo capitolo del libro HorrorStore vi creerò una playlist con tutti i capitoli così se volete farla partire e ascoltarla in loop mettiamo anche i capitoli in ordine mi piace perché il titolo è in rilievo e invece toccarlo è morbido vabbè andiamo al secondo capitolo dovevamo scoprire se Emy verrà licenziata o meno lascia un bel like se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale e attiva la campanilla tritsec, tritsec, tritsec al tempo stesso una soluzione per contenere e un posto per riposare tritsec è un sistema di seduta modulare che trasforma anche lo spazio più piccolo in un'ampia stanza scioglie le briglie alla tua immaginazione e alle tue amicizie disponibile in verde lime, giallo limone, roso fenicottero, bianco, neve e blu notte sono tipo degli scabelli con un cassetto all'interno che possono appunto diventare sono componibili ecco, una specie di divano componibile o sedia componibile Emy attraversò la caffetteria e vargò le porte che conducevano al retro dell'edificio in fondo a un lungo corridoio nel quale si susseguivano uffici delle risorse umane uffici del comparto IT e uffici vendite apri la porta della sala motivazione seduta da solo su un cubo tritsec c'era una donna di mezza età con l'aspetto di una cantante country tutta capelli biondi, godonati e troppo mascara che si picchiettava nervosamente un tubetto di blistex sulle labbra roseni, chiese Emy incredula, anche tu? beh, disse roseni, cercando di mantenere il controllo della voce e avvitando il tappo del tubetto di puro cacao non voglio saltare a nessuna conclusione Emy chiuse la porta e si sedette su un altro cubo tritsec roseni era tanto dedita e responsabile quanto Emy era pigra e inaffidabile se Basil voleva incontrarle entrambe gli tagli al personale dovevano essere ben peggiori di quanto Emy immaginasse il suo cervello cominciò a girare in tondo se roseni andava via allora era matematico che sarebbe andata via anche lei e se lei andava via allora era tutto finito avrebbe perso l'appartamento le sarebbe toccato trasferirsi nella roulotte della madre fare la commessa non era così male se avevi benefit e ti pagavano 12 dollari l'ora ma se perdeva quel lavoro non le restava altra scelita che il centro commerciale e tutti quegli impieghi prevedevano il minimo sindacale che in Ohio significava 7 dollari 95 l'ora non poteva vivere con 7 dollari 95 l'ora già così era indietro con l'affitto se roseni se ne andava era matematico che sarebbe andata via anche lei il suo cervello continuava a rincorrersi ti hanno detto qualcosa? domandò emi no rispose roseni ma se siamo qui entrambe sono certo che basil abbia un'ottima ragione siamo le prime ad andare via disse emi ci sta licenziando assicuriamoci che piova davvero prima di preoccuparci dell'inundazione replicò roseni potrebbe rivelarsi qualcosa di piacevole era proprio da roseni si ricordava dei compleanni si ricordava degli anniversari delle assunzioni si ricordava i nomi dei figli si ricordava che lavoro facevano i coniugi e si rivolgeva ai collaboratori più anziani nello stesso identico modo che usava per quelli più giovani non faceva mai la superiore non era mai condiscendente e non diceva mai una parola cattiva sul conto di nessuno aveva lavorato nel punto vendita di Youngstone per 13 anni prima di venire trasferita a Guiaoga solo per provare qualcosa di nuovo 47 anni non si era mai sposata non aveva figli e emi non aveva mai saputo di un legame serio trattava Orsk come la sua famiglia e la sua casa e ogni giorno si sforzava di farne un posto migliore come ha detto alle casse riteneva sua missione personale mandare i clienti al di là delle porte con un sorriso stampato in faccia viveva per rendere felici le altre persone apprezzo che tu pensi positivo di semi ma se sei qui con me non può trattarsi di una buona notizia non preoccuparti ribatte a Rosenni serrando le labbra ce ne staremo sedute qui e qualunque cosa accadda la affronteremo insieme poi si protese per abbracciare emi emi tentò di dire qualcosa ma sentiva i dotti lacrimali sul punto di esplodere e aveva un gruppo in gola sapeva che se avesse aperto la bocca per dire qualcosa le sarebbe uscito di prepotenza un grosso sinchiozzo rumoroso si ripromise che non avrebbe pianto potevano portarle via il lavoro ma non la sua degnità si staccò da Rosenni strinse i denti e fissò la moquette come era arrivato a questo per i primi 18 anni della sua vita aveva avuto un unico obiettivo andarsene dalla roulotte della madre quando il consulente scolastico aveva riso dei suoi progetti universitari era riuscita a racimolare abbastanza borsi di studio per frequentare design commerciale alla Cleveland State ma poi sua madre si era risposata e il reddito del nuovo marito aveva spostato Amy in un'altra fascia senza aiuti finanziari aveva dovuto registrarsi come studente non continuativo adesso era di nuovo in ritardo con l'affitto e i tre conquilini avevano messo bene in chiaro che aveva 24 ore per consegnare i 600 dollari che doveva altrimenti l'avrebbero buttata fuori di casa più Amy annaspava più in fretta affondava ogni mese riusciva a mettere insieme sempre meno soldi per pagare lo stesso numero di bollette la ruota del criceto continuava a girare senza sosta a volte le veniva voglia di mollare la presa e scoprire quanto in basso sarebbe caduta se avesse smesso di lottare non si aspettava che la vita fosse giusta ma doveva essere proprio così implacabile rozzenni le strinse forte la mano e le offrì una manciata di fazzolettini Amy le rifiutò sto bene disse non sto piangendo le due donne rimasero sedute una accanto all'altra rigide e taciturne Amy passò dallo shock alla contestazione alla depressione proseguendo per la legittima indignazione e arrivando infine all'accettazione poi il suo ciclo del dolore ricominciò da capo e quando Basil apre la porta era tornata la legittima indignazione prima che Basil potesse parlare Amy prese la parola se dovevo uscire di scena l'avrebbe fatto in maniera gloriosa so che ce l'hai con me e va bene ma non riesco a credere che tu voglia licenziare l'unica brava persona di questo posto cosa? fece Basil spiazzato Amy non cominciò a rozzenni no la interruppe Amy se devo essere licenziato all'oggetto ma voglio che lui sappia che licenziare te è un errore enorme si rivolse a Basil licenziare rozzenni è come prendere a bastonati un cucciolo di fuoca fa di te un cattivo rostenni piace a tutti Amy ascoltami disse Basil il tuo legame con l'azienda è debole la tua presentazione lascia parecchio a desiderare il tuo atteggiamento è aggressivo e polemico e niente affatto coerente con i valori chiave non farlo lo interruppe Amy ti prego ma non voglio licenziarti concluse Basil no chiese Amy vuoi licenziare me sguitti Ruth Annie non voglio licenziare nessuna delle due disse Basil vi ho chiesto di venire qui perché ho bisogno del vostro aiuto ho un lavoro extra per voi questa sera un progetto parallelo e ho bisogno che manteniate il riservo il sollievo per farse le vene di Amy come una droga in quel momento avrebbe consentito qualsiasi cosa scalare l'Everest dirottare un aereo correre nuda ai dieci acri di parcheggio di Orsk suonando un trombone a noi come un idiota felice all'unisono con Ruth Annie ma al tempo stesso la parte di cervello che non era stata inondata dalle endorfine sussurrò sarà qualcosa di strano deve essere qualcosa di strano sarà un tantino strano confermò Basil quanto strano domandò Amy Basil abbassò la voce al volume dei briefing dei film d'azione abbiamo assistito a un sacco di reati contro il negozio nel corso delle ultime settimane delle ultime sei settimane ogni mattina gli addetti all'apertura trovano merce danneggiata specchi piatti cornici dente tirate via dalle pareti un materasso fatto a brandelli e stamattina abbiamo avuto un incidente con brocca incidente chiese Ruth Annie era imbrattato di una sostanza rispose Basil cacca specificò Amy una sostanza ripete Basil che puzzava di cacca siamo all'undici per cento in più di danni e Pat ha dovuto segnalare la cosa alla sede regionale mi ha anche incaricato di condurre un'indagine interna Pat era il direttore generale dell'intero punto vendita nonché diretto superiore di Basil una volta aveva fatto nascere un bambino su un musk e aveva pagato di tasca suon di j per il karaoke del party di natale nessuno voleva deludere Pat ovviamente continuò Basil non voglio diluderlo e la prevenzione da anni domandò allo Danny non hanno telecamere centinaia disse Basil e ho visionato le riprese ma le luci sono a tempo e alle due di ogni mattina passano in modalità penombra ho concluso che i danneggiamenti devono verificarsi allora tra le due e le sette e mezza del mattino quando arrivano gli addetti all'apertura ma è possibile obiettò Amy non c'è mai nessuno qui dopo le undici a quanto pare qualcuno si disse Basil questa cosa non mi suona bene intervenne Ruth Danny morsicandosi il labbro la mia proposta è che noi tre facciamo un turno extra stasera dalle dieci alle sette aspetteremo nella sala relax e una volta allora pattuglieremo il negozio lo jarum il mercato e il magazzino self service se un vandalo si introduce e danneggia il negozio lo beccheremo e chiameremo la polizia problema risolto stasera non posso di semi ho da fare non era proprio così ma l'idea di restare sveglia per 24 ore non la faceva impazzire deve essere stasera insiste basil la sede regionale ha già risposto all'email di pat domani mattina per prima cosa manderanno un team consulenti vorranno fare un giro completo del negozio e non possiamo mica permettere che trovino un brocca imbrattato di avete capito perché noi domando emi perché siete entrambe collaboratrici leale e affidabili e mi alzo gli occhi al cielo sul serio basil insidò e va bene sarò sincero avevo Tommy e Greg del riassortimento tutti pronti ma gli indians giocano contro i socks così si sono tirati indietro poi ho chiesto a David Potts e a suo fratello Russell ma questa mattina si sono dati molati perciò ho provato con eduardo pena ma deve badare i nipoti poi ho tentato con tania della caffeteria ma è occupata con un'asta di bei adesso lo sto chiedendo a voi perché so che entrambe direte sì davvero chiesemi ne sei certo Rosenni accetterà perché è discreta responsabile e tiene orsk tu accetterai perché vuoi tornare a youngstone ho visto la tua richiesta di trasferimento sul computer questa mattina so che non ti piace questo punto vendita e so che io non ti piaccio ma se fai questo turno extra mi assicurerò che la tua richiesta vada a buon fine e che tu non debba rivedermi mai più il primo istinto di Amy fu di replicare con una battuta ma era troppo sorpresa dal fatto che la proposta fosse davvero appetibile pagherai lo straordinario meglio ancora il doppio rispose Basil in contanti alla fine del turno solo per dimostrare quanto apprezzo la vostra partecipazione e discrezione Amy fece in fretta il calcolo otto ore al doppio dello straordinario le avrebbe fatto incassare duecento dollari abbastanza per tenere buoni i coinquilini fino al prossimo giorno di paga conta su di me disse anche su di me disse ruzzenni sarà divertente come un pigiama party Basil strinse loro la mano succellando il patto vediamoci all'ingresso dipendenti alle 10 di stasera spiegò vi farò entrare mentre la manutenzione finisce con le pulizie aspetteremo qui dentro fino a che tutto non sarà tranquillo e a quel punto faremo la prima per l'ustrazione e non una parola con nessuno intesi questa è un'operazione segreta la porta si spalancò e Matt e Trinity fecero eruzione c'è gente qui dentro esgramò Trinity fingendosi sorpresa e i ragazzi disse Matt che succede? subito Basil cercò di far finta di niente dando l'impressione che stava senz'altro succedendo qualcosa stavamo solo conversando disse si rivolse a Amy e Ruth Annie grazie per il vostro feedback ne ho preso nota e riferirò a chi di dovere feedback ricarda cosa vuole sapere Matt è tutto a posto chiese Trinity cercando un indizio negli occhi di Amy c'è un'energia davvero bizzarra in questa stanza come se qualcuno avesse avuto una conversazione alquanto difficile sarà meglio che facciate la vostra pausa disse Basil mentre usciva dalla stanza io devo tornare al lavoro Trinity si sedete di fronte Amy e Ruth Annie insomma cosa voleva vi ha licenziate a me potete dirlo voi due stavate in corridoia origliare domandò Amy stiamo raccogliendo informazioni fondamentali per il morale dello staff rispose Trinity nessuno è stato licenziato disse Ruth Annie te l'avevo detto fece Matt a Trinity lo sapevo che non avrebbero mai licenziato Ruth Annie Trinity gli fece la linguaccia e lei e Matt cominciarono a flirtare dandosi spintarelle Amy aveva sentito dire che Trinity e Matt si frequentavano ma aveva sentito lo stesso di Trinity con metà degli addetti alle vendite maschi e femmine era il tipo di ragazza festaiola e su di giri che la gente trovava irresistibile e che Amy trovava irritante devo andare disse alzandosi Trinity si frappose tra Amy e la porta se non era per licenziarti cosa voleva Basil devi fare formazione sulla diversità vuole metterti in part time il punto vendita chiude scusa se non ti do la razione quotidiana di dramma lavorativo replicò Amy ma ho cose più importanti da fare tipo l'inventario dei tossuri Matt e io abbiamo usato la scienza per dimostrare che sono in arrivo grossi cambiamenti disse Trinity le cose in questo negozio stanno raggiungendo un punto critico qualsiasi informazione tu abbia ci aiuterà a completare il quadro generale sul serio intervenne Matt il negozio chiude andiamo Ruzzani insiste Trinity cos'è successo ci serve la verità nuda e cruda penso che probabilmente è meglio se non dico niente replicò Ruzzani ci state uccidendo disse Trinity ci state letteralmente uccidendo ottimo ribatte Amy allora forse la pianterai di essere così fastidiosa detto ciò Amy abbandonò Ruzzani alle due persone per i tanti di Orsk e tornò alla sua postazione dove trascorse le due ore successive a raffrontare le giacenze di Tosur quando alle 4 il suo turno terminò Amy se ne andò in giro in auto per mezz'ora poi decise di dormire un po' prima di cominciare il turno notturno segreto alle 10 non poteva rischiare di tornare all'appartamento senza i soldi che doveva e Pesi l'aveva messo in chiaro che sarebbe stata pagata solo alla fine si vergognava troppo a sonecchiare nel parcheggio di Orsk in mezzo al via vai dei colleghi così guidò per un paio di chilometri lungo la ruta 77 entrò nel parcheggio di un Red Lobster parcheggiò vicino ai cassonetti e reclinò il sedile fino in fondo faceva caldo l'interno dell'auto puzzava di benzina e i suoi piedi di caffè Amy chiuse gli occhi cercando di far cessare il ronzio nella sua testa da prima non credette che sarebbe riuscita ad addormentarsi ma la giornata era stata lunga e sovraccarica di emozioni dopo 45 minuti seduta con lo sguardo perso nel vuoto pensando al disastro che era diventato la sua vita dopo 45 minuti a chiedersi se sarebbe mai riuscita a evadere da Orsk e trovarsi un impiego da seduta dopo 45 minuti passati a sentire il sudore colare lungo le costole sprofondò in uno stato di vischiosa semi incoscienza e mentre la sua mente chiudeva bottega e sprofondava nel buio Amy si chiese intontita se sarebbe rimasta bloccata per sempre sulla ruota da percricetti bloccata nella vendita al dettaglio per sempre bloccata a Orsk per sempre ma non era il caso di preoccuparsi quella notte sarebbe stato il suo ultimo turno non è solo un lavoro è il resto della tua vita ti interessa far parte della famiglia Orsk le nostre posizioni di collaboratori di primo livello offrono stipendi competitivi e ampio margine di crescita una volta qui non vorrai mai andare via le posizioni disponibili comprendono addetti allo staging e design sviluppano il prestigio della gamma eseguono la quotidiana manutenzione dell'esposizione e rispondono in maniera approvativa alle direttive superiori riguardanti la programmazione commerciale per il raggiungimento degli obiettivi stagionali venditori sviluppano una più profonda conoscenza dei concetti chiave di Orsk e comunicano tale conoscenza con la massima competenza di vendita nella rispettiva area di responsabilità utilizzando una comunicazione diretta venditore acquirente carellisti contribuiscono a un ambiente in cui la cultura Orsk è una realtà forte e viva che abbraccia la diversità di collaboratori e visitatori devono essere in grado di sollevare 35 kg Orsk lascia che tu diventi noi Orsk è finito il capitolo ci fermiamo qua vedremo poi cosa succederà durante la giornata e soprattutto io voglio sapere cosa succederà durante la notte ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura la notte